Ciao, bentrovato in questo nuovo tutorial dedicato anche questo alla vendita. E parliamo oggi di conoscere bene il nostro cliente per poi far conoscere al nostro cliente il nostro valore. Ti sarà capitato di andare facile, veloce, fluidamente con le persone che ti somigliano. Infatti noi creiamo un'intesa quasi spontanea, una simpatia. Ci intendiamo anche con gli sconosciuti, quando questi sconosciuti ci assomigliano moltissimo e sono allineati un po' con i nostri modi di fare, i nostri modi di parlare, di pensare, eccetera, eccetera. Cosa succede invece quando dentro il nostro studio, dentro il nostro negozio, nella nostra attività arriva un cliente che è molto lontano dalla nostra personalità? Succede quasi un po' l'opposto, non so se ti sei mai reso conto. Succede che c'è un po' di distacco, di disagio, di antipatia, di frustrazione, perché questa persona proprio non ci capisce, questa persona proprio non vuole intendere quello che io faccio, quello che io sto cercando di comunicare a lui o a lei. E questi sono un po' i due scenari che noi abbiamo, che noi gestiamo in Academy, ok? Per questo abbiamo creato dei laboratori di vendita, dove impariamo a riconoscere clienti diversi per poi calibrare o aggiustare, adattare il nostro modo di parlare a ogni cliente che ci ritroviamo davanti. Però, cavolo, ogni cliente ci sono tantissime personalità e questo non possiamo certo farlo, non possiamo adattarci alle sfumature di ogni persona che è davanti a noi. O forse sì. Infatti, quello che noi facciamo, e ve lo voglio proprio far vedere, che abbiamo un, nel portale abbiamo una sezione dedicata interamente, vediamo se riesco a condividervi lo schermo. In questa sezione qua dedicata al mindset abbiamo un corso, ve lo faccio vedere, è dentro il portale della vendita, ok? Nella vendita abbiamo le tre intelligenze. Le tre intelligenze è dove sotto c'è anche un pdf che è un estratto, un, come si può dire, un riassunto di queste tre intelligenze e praticamente ci spiega come ci sono tre macro personalità alle quali noi possiamo imparare velocemente a riconoscere e a interagire. E queste tre macro personalità alla fine hanno tutti modi di acquistare diversi, modi di spendere, modi di fare obiezioni, modi di fare domande, rispondere a domande, tutti diversi. Quindi parto da quello più difficile, poi magari tratteremo anche gli altri, ma il cliente più difficile in assoluto è il cliente più analitico, più logico, perché questo cliente è un cliente che ha difficoltà a stare nella relazione, non vuole raccontare molte cose di sé e noi sappiamo che nella vendita dobbiamo un po' scoprire qual è il mondo della persona che abbiamo davanti, quali sono i suoi interessi, i suoi bisogni, le sue preferenze, i suoi timori, ok? Però c'è questo cliente un po' analitico, logico, che non vuole la relazione, non vuole che noi ci avviciniamo molto, è un po' distaccato, un po' freddo, risponde a monosillabe, non ci fa delle confidenze particolari, non ci dà una mano in questa nostra indagine per capire effettivamente cosa sta cercando, le sue vere motivazioni. Questo rende la nostra vita molto difficile e con questo particolare cliente alle quali non piacciono le domande, alle quali non piace la relazione, cosa possiamo fare? Dobbiamo un po' mettere da parte la nostra personalità, i nostri modi, le nostre preferenze, le nostre abitudini e per qualche momento, non per tutta la vita, per qualche momento, per un istante andare verso quello di cui ha bisogno lui. Perché la vendita alla fine è mettersi a servizio, è aiutare. Quindi ci mettiamo a servizio, mettendo da parte la nostra personalità. E questo cosa fa accadere? Fa accadere che se lui non ha voglia tanto di parlare, magari ha voglia di ascoltare, di capire. Allora magari chiediamo proprio, facciamo proprio delle domande tipo cosa vorrebbe sapere, quali sono le informazioni che posso darle per rassicurarlo o per aiutarlo a prendere questa decisione. Quindi formuliamo delle domande, che sono comunque domande abbastanza aperte, ok? Però lui non deve parlare di sé. Parla di necessità, di desideri. Non parla a livello emotivo, come fa magari una persona più relazionale, che con facilità crea relazione con le persone. L'analitico razionale, lui parlerà di quelle che sono le sue esigenze, i suoi bisogni tecnici. E quindi noi faremo quello che spesso è sconsigliato fare nella vendita, ovvero risponderemo senza fare domande. Daremo dati, informazioni. Ma come li daremo? Non li daremo così sbrodolandoci addosso le parole. Le daremo in maniera tecnica, precisa, schematica, facendoci proprio supportare da delle sfumature particolarmente specifiche, scientifiche, laddove è possibile. Ogni settore poi ha le sue particolarità. Però più specifici, scientifici, tecnici siamo, più queste persone si sentono al sicuro. Quindi all'inizio di questa nostra relazione di vendita con un cliente analitico, logico, così dobbiamo fare. Dobbiamo andare verso di lui, verso il suo modo. Quando poi lui ha iniziato a capire che noi, primo, sappiamo quello che stiamo dicendo, quindi diamo una sembianza di competenza. Due, che non stiamo lì a venderli e a incalzare la vendita, ok? Quindi siamo lì proprio per aiutarlo, per rispondere alle sue domande. Tre, quindi lui si sente al sicuro e noi abbiamo fatto questo, abbiamo contribuito a metterlo al sicuro. Ecco che possiamo anche noi iniziare a fare qualche domanda. Chiedendo il permesso. Guarda, avrei bisogno anch'io di capire alcune cose di quello che stai cercando. Posso farti qualche domanda? Sembra banale, ma quante volte chiedi il permesso di fare delle domande? Quante volte ti ritrovi magari a strategizzare un dialogo in questo modo? Ma se tu inizi a farlo, specialmente con clienti che sono un po' più introversi, un po' più ritirati, un po' più distaccati, ecco che questo ti cambia veramente la vita. E a quel punto inizi a fare le tue domande. Inizi a fare le tue domande su quello che stai cercando, a cosa gli serve, non andare troppo sul personale con il cliente analitico, logico perché non ama questo, non ama, non ama entrare nel personale, ha bisogno di un po' più di tempo per entrare nella relazione. Quindi che cosa farai? Parlerai di quelli di cui ha bisogno in maniera un po' più oggettiva, un po' più distaccata. Ti consiglio anche a volte di dare del lei e di stare nel lei, che nel commercio spesso si accorciano le distanze dandoci subito del tu, lo faccio anche io spessissimo, però mi rendo conto che con queste persone è meglio aspettare che siano loro a rilassarsi un po' prima di accorciare queste distanze relazionali. Fai le tue domande, scopri quello di cui ha bisogno, un'altra cosa che dovresti sapere, diciamo l'ultima di questo breve video che voglio trasferirti, è che il cliente tipicamente analitico, logico, non compra mai in prima battuta, non compra sull'onda dell'emozione, anche se poi deve essere emotivamente coinvolto per fare l'acquisto, però è uno che prima di agire in qualsiasi sfera della sua vita deve ponderare, quindi prima di mettersi domani in tasca e tirare fuori denaro deve ponderare questo acquisto. Allora, un consiglio che ti do che funziona molto bene è questo, se tu riconosci di avere davanti un cliente analitico, logico, perché combacia con questa descrizione, breve descrizione che abbiamo fatto in questo video, ti consiglio di non provare a chiudere la vendita immediatamente, ma di dire guardi, vuole magari portarsi a casa del materiale e leggerlo e magari torni fra due giorni o meglio ancora, la richiamo io fra due giorni, così ne parliamo insieme, perché sicuramente saranno emerse ulteriori domande e magari ci riconfrontiamo personalmente insieme. e quindi lo mandate via, sì, ma con tutta una serie di informazioni da leggere, da confrontare, da paragonare e fissate un appuntamento in modo che ci sia una sorta di accompagnamento alla riflessione, perché tanto loro devono stare nella riflessione, quindi tanto meglio che ci stanno con noi, che siamo i professionisti di turno, le guide di questo processo di acquisto, coloro che vogliono veramente aiutarlo a prendere la decisione giusta per quello che gli occorre. Quindi provate, provate a riconoscere il vostro prossimo cliente analitico nazionale e provate a gestirlo secondo questi consigli e fateci sapere come va. In Academy, in Big Business, noi abbiamo dei laboratori di vendita proprio perché questi clienti sono difficilissimi, è difficile entrare in relazione con loro, è difficile vendere a loro e noi passiamo giornate intere a fare simulazioni cercando tutti i nostri membri della tribù razionali per farli fare proprio i clienti perché il cliente è piuttosto piuttosto da chiudere. allenati, facci sapere come va e ci vediamo presto.